In oltre 20.000 provenienti da ogni parte della Calabria e dalle regioni vicine nella città del Polino in occasione della prima sfilata in maschera del 58esimo Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folclore, evento organizzato dalla Proloco Cittadina. Quasi 2.000 figuranti hanno preso parte al lungo serpentone della sfilata, 50 camper allocati nell'area mercatale e nel piazzale delle Ferrovie per festeggiare insieme a Re Burlone. L'allegria, la musica, i colori e il divertimento sono state le note predominanti dell'intera mattinata con la Parata della Gioia, curata da Tiziana Lavitole Cadigia Russo, che ha visto nella centralissima piazza Municipio sfilare tantissimi bambini della scuola dell'infanzia e primaria secondo circolo didattico Santi Medici e di Contrada Porcione in un serpentone di colori e di coreografie curate dalla maestra Manuela Rende. hanno rappresentato Popoli in Festa per Costruire la Pace, un meraviglioso viaggio nel tempo tra i cinque continenti, premiato anche il disegno del concorso artistico giunto alla dodicesima edizione e realizzato dagli alunni della quarta A e B del primo circolo presso Via Roma, che ha fatto da testimoni all'evento. Non da meno il pomeriggio, dove tutti gli spettatori hanno applaudito e partecipato con grande entusiasmo apprezzando lo spettacolo regalato dai gruppi iscritti al ventitresimo concorso per gruppi mascherati, quest'anno intitolato al compianto Franco Minasi, che per anni ha dato onore alla Proloquia e al suo carnevale, partecipando con estro e originalità che lo contraddistinguevano all'allestimento di maschere, carri allegorici e esilaranti. Dai numerosi gruppi spontanei fuori concorso e dai gruppi ospiti del Festival Internazionale del Folclore, evento che si affianca sin dalla prima edizione al carnevale castrovillarese, caratterizzandolo fortemente. La sfilata è stata aperta dalla fanfara Piana del Sele di Salerno. A seguire due esemplari di Cavalli del Range, le querce di Castrovillari, che hanno fatto da apripista alla macchina d'epoca a bordo della quale si trovava la neomadrina del carnevale, Martina Mazza, 17 anni, castrovillarese, proveniente da liceo scientifico Mattei e dagli artisti di strada, sfilata che si è svolta in modo ordinato e tranquillo grazie all'azione congiunta delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato. Partita da via Polisportivo, è scesa a lungo Corso Calabria e Corso Garibaldi per fermarsi in piazza Municipio, dove è stata allestita il palco dal quale Carlo Catucci e Paola Madeo hanno animato il pomeriggio grazie all'esibizione delle scuole di ballo Progetto CEA di Tilde Daniele Nocera e Dream Dance di Miriam Barletta, che si erano prime esibite presso la postazione di Piazza Giovanni XXIII con Walter Martire. I gruppi iscritti al concorso sono stati giudicati da un'apposita giuria. La serata si è conclusa in Piazza Municipio con il concerto di Mimmo Cavallaro con i Taran Project, cantautore riconosciuto come uno dei principali rappresentanti della musica calabrese. Questo è il giudizio espresso dalla giuria al termine della prima sfilata, che per ogni parametro di valutazione poteva dare un voto da 5 a 10 punti. Medievolando nel 3001, la bellezza salverà l'universo. Liceo artistico Alfano, Liceo classico Garibaldi, punti 299, Coriandoli in festa 294, tutti pazzi per il Keck de Sagni 288, Carnalivaro, Cumo di Cimonui, Centro sociale anziani e l'amicizia 282, Mamma Ligalli e Liromani, Liceo scientifico Mattei 277 voti, Non Abra Cadabra ma Lambicchiamoci il cervello, Itis Fermi 275 voti, WhatsApp 269, Popoli in festa per costruire la pace, Scuola secondo Circolo Santi Medici 267 voti, Share the Love with the World Ipsia Leonardo Davigi 263, Il Teatrino di Arlecchino 252, Gris Scuola di Ballo PAM 251, Gli anni che ritornano ITCG Pitagora Calvosa 244 voti, Molto apprezzato sia dalla giuria che dal pubblico il gruppo fuori concorso Frozen Scuola di Ballo al ritmo loco di Roggiano Grevina. Durante la silata anche un gruppo di studenti dell'ESN Erasmus Student Network, un'associazione studentesca di carattere europeo che coinvolge la maggior parte degli Atenei d'Europa provenienti dall'Unical di Cosenza. Questi voti si andranno a sommare alla seconda silata in programma domani alle ore 15, dove si scenderà nuovamente tutti in strada per l'ultima sfilata, che terminerà come sempre con la proclamazione del gruppo mascherato vincitore del concorso, indetto dalla Proloco. Più che soddisfatti, il direttore artistico e il presidente della Proloco, rispettivamente Gerardo Bonifati ed Eugenio Iannelli, per la prima grande silata a portare i saluti al popolo del Carnevale, il sindaco Mimmo Lopolito.